è promesso vi faccio vedere anche questo non riuscivo ad aprire vedete come è spaziosissimo dentro che questo si apre potete osservare e infatti fatto sta che questa cerniera è chiusa quindi pensate come è grande questa borsona a soli 30 euro però ve la possiamo fare anche 25 però meno di 25 no perché altrimenti poi scendiamo troppo di prezzo perché questa in magazzino la verità l'abbiamo pagata a 100 euro quindi già è nuovissimo a parte quindi la posso vendere massimo 25 posso farti di offerta e perché proprio perché il negozio abbiamo pagato 100 euro c'è 100 euro penso che sia una bella cifra quindi paragonate a 25 ora vi faccio vedere quanto abbiamo messo di black frider su questo